Leo. Leo era ancora sotto shock. Era successo tutto così in fretta. Avevano legato le corde con i rampini all'Atena Parthenos proprio mentre il pavimento cedeva e gli ultimi tiranti di ragnatella si spezzavano. Jason e Frank si erano tuffati giù per salvare gli altri, ma avevano trovato solo Nico e Hazel sulla scaletta. Percy e Annabeth erano spariti. L'avoragine che conduceva nel Tartaro era rimasta sepolta sotto tonnellate di calcinacci. E lui aveva tirato fuori Largo II dalla grotta, pochi secondi prima che tutta la struttura implodesse, trascinandosi dietro il resto del parcheggio. Largo II era ferma su una collina affacciata sulla città. Jason, Hazel e Frank erano tornati sulla scena del disastro, nella speranza di scavare tra le macerie e trovare un sistema per salvare Percy e Annabeth, ma erano venuti via demoralizzati. La grotta era semplicemente sparita. La scena pullulava di poliziotti e pompieri. Nessun mortale era stato ferito, ma gli italiani si sarebbero grattati la testa per diversi mesi, nel vano tentativo di capire come si fosse aperta quell'enorme voragine che aveva inghiottito una dozzina di auto in mezzo a un parcheggio. Storditi dal dolore, Leo e gli altri caricarono con cura l'Athena Parthenos sulla nave, utilizzando le chiavi idrauliche del Largo II con l'aiuto di Frank Zhang, elefante part-time. La statua entrava alla perfezione nella stiva, anche se Leo non aveva idea di come l'avrebbero utilizzata. Edge era troppo triste per dare una mano. Continuava a camminare sul ponte con le lacrime agli occhi, tirandosi il pizzetto, colpendosi la testa e borbottando «Avrei dovuto salvarli! Avrei dovuto far saltare in aria più roba!» Alla fine, Leo lo mandò sotto coperta a preparare la partenza. Sentirsi in colpa non serviva a nulla. I cinque semidei si riunirono sul cassero a osservare la colonna di polvere che saliva in lontananza dal luogo dell'implosione. Leo appoggiò una mano sulla sfera di Archimede, che adesso era al timone, pronta per essere installata. Avrebbe dovuto sentirsi contento. Era la più grande scoperta della sua vita, perfino più grande del Bunker 9. Se fosse riuscito a decifrare i rotoli di pergamena di Archimede, avrebbe potuto fare cose straordinarie. Quasi non osava sperarlo, ma forse sarebbe stato anche capace di costruire un nuovo disco di controllo per un certo suo amico Drago. Eppure, il prezzo pagato era stato troppo alto. Quasi riusciva a sentire Nemesi che rideva. E l'avevo detto che avremmo potuto metterci in affari, Leo Valdés. Leo aveva aperto il biscotto della fortuna, aveva avuto il codice d'accesso per la sfera e salvato Frank e Hazel. Ma Percy e Annabeth erano stati il sacrificio. Ne era certo. È stata colpa mia, disse sconsolato. Gli altri lo fissarono confusi. Solo Hazel sembrò capire. Era con lui al Great Salt Lake. No, ribatté. No, è colpa di Gea. Tu non c'entri niente. Leo avrebbe voluto crederle, ma non ci riusciva. Avevano cominciato un viaggio con lui che combinava un guaio incendiando Nuova Roma. E ora lo concludevano nell'antica Roma, con lui che apriva un biscotto e pagava un prezzo molto più salato di un occhio della testa. Leo, ascoltami. Hazel lo prese per mano. Non permetterò che ti senta in colpa. Non potrei sopportarlo dopo... Dopo che Sammy... La frase le si strozzò in gola, ma Leo sapeva cosa voleva dire. Il suo bisabuelo si era sentito responsabile per la scomparsa di Hazel. Sammy aveva vissuto una bella vita, ma era morto convinto di aver usato un diamante maledetto e condannato la ragazza che amava. Leo non voleva che lei fosse triste, ma stavolta la situazione era diversa. Il vero successo è frutto del sacrificio, si disse. Aveva scelto di aprire il biscotto della fortuna e Percy e Annabeth erano precipitati nell'abisso. Non poteva essere una coincidenza. Nico di Angelo si avvicinò con una certa fatica, appoggiato alla sua spada nera. Leo non sono morti. Se lo fossero, lo saprei. Come fai a esserne sicuro? domandò il figlio di Efesto. Se quella voragine porta davvero al... Lo sai? Come potresti percepirli così lontano? Nico e Hazel si scambiarono uno sguardo, forse confrontando i risultati dei loro radar della morte. Leo rabbrividì. Hazel non gli era mai sembrata una figlia degli inferi, ma Nico... Beh, quel ragazzo gli faceva caponare la pelle. Non possiamo esserne sicuri al cento per cento, ammise Hazel, ma credo che Nico abbia ragione. Percy e Annabeth sono ancora vivi. Almeno per il momento. Jason batte il pugno contro il parapetto. Avrei dovuto fare attenzione! Potevo volare laggiù e salvarli! Io pure, si lamentò Frank. Sembrava sul punto di piangere. Piper posò una mano sulla schiena di Jason. Non è colpa vostra. Stavate cercando di salvare la statua. Ha ragione, intervenne Nico. Anche se la voragine non fosse rimasta sepolta sotto le macerie, non avreste potuto volare là dentro senza essere trascinati giù. Io sono l'unico che è stato davvero nel tartaro. È impossibile descrivere la potenza di quel posto. Quando ci arrivi vicino, ti risucchia dentro. Non ho mai avuto nessuna possibilità di sottrarmi. Frank tirò su col naso. Quindi, nemmeno Percy e Annabeth hanno la possibilità di sottrarsi. Nico girò l'anello d'argento con il teschio. Percy è il semidio più potente che abbia mai conosciuto. Senza offesa per voi, ragazzi, ma è così. Se c'è qualcuno in grado di sopravvivere là sotto, è lui, soprattutto con Annabeth al suo fianco. Troveranno una strada attraverso il tartaro. Jason si voltò. Per arrivare alle porte della morte, vuoi dire. Ma tu ci hai detto che sono sorvegliate dalle forze più potenti di Gea. Come possono due semidei? Non lo so, ha mise Nico. Ma Percy mi ha detto di portarvi nel Lepiro, sul versante mortale delle porte. Ha in programma di incontrarci là. Se riusciamo a sopravvivere alla casa di Ade, ad aprirci un varco tra le forze di Gea, allora forse possiamo cooperare con loro due e sigillare le porte della morte su entrambi i lati. E riavere Percy e Annabeth sani salvi? domandò Leo. Forse. A Leo non piacque il tono di Nico. Ebbe l'impressione che stesse tenendo per sé molti dei suoi dubbi. E poi lui, di serrature porte, se ne intendeva. Se le porte della morte dovevano essere sigillate da entrambi i lati, come avrebbero potuto farlo, senza che qualcuno rimanesse intrappolato negli inferi? Nico trasse un respiro profondo. Non so come ci riusciranno, ma Percy e Annabeth troveranno il modo. Attraverseranno il tartaro e individueranno le porte della morte. E quando ci riusciranno, noi dobbiamo essere pronti. Non sarà facile, commentò Hazel. Gea userà contro di noi tutte le sue armi per impedirci di raggiungere l'epiro. Sai che novità, sospirò Jason. Vai per Annui. Non abbiamo alternativa. Dobbiamo sigillare le porte della morte, se vogliamo impedire ai giganti di destare Gea. Altrimenti, i suoi eserciti non moriranno mai. E dobbiamo sbrigarci. I romani sono a New York. E presto, marceranno contro il campo mezzosangue. Abbiamo un mese al massimo, aggiunse Jason. E Fialte ha detto che Gea si sarebbe svegliata tra un mese esatto. Leo raddrizzò la schiena. Possiamo farcela. Tutti lo fissarono. La sfera di Archimede può potenziare la nave, aggiunse sperando di avere ragione. Studierò gli antichi rotoli di pergamena che abbiamo. Contengono di certo un sacco di armi sconosciute e io le posso costruire. Colpiremo gli eserciti di Gea con un arsenale completamente nuovo. A prua, Festus fece cigolare la mandibola e sputò fuoco e fiamme con aria di sfida. Jason abbozzò un sorriso e diede una pacca sulla spalla di Leo. Sembra un buon piano, ammiraglio. Vuole stabilire la rotta? La storia dell'ammiraglio era una presa in giro, ma una volta tanto Leo accettò il titolo. Quella era la sua nave. Non era arrivato così lontano solo per farsi fermare. Avrebbero trovato la casa di Ade, avrebbero conquistato le porte della morte. E per gli dèi, se avesse dovuto progettare un braccio meccanico abbastanza lungo da tirare Percy e Annabeth fuori dal tartaro, lo avrebbe fatto. Nemesi voleva che Leo si vendicasse di Gea? Sarebbe stato ben felice di accontentarla. Gea si sarebbe pentita di essersi mischiata nella vita di Leo Valdés. Sì! Il figlio di Efesto lanciò un'ultima occhiata al panorama di Roma, tinto di rosso sangue alla luce del tramonto. Festus, issa le vele! Abbiamo due amici da salvare!